Ciao a tutti ragazzi, oggi sono Vegeta! Vi vorrei raccontare che in questo giardino ho visto un mostro. Non sto scherzando ragazzi, l'ho visto proprio che faceva dei passi. Guardate, mi sembra strano che lascia tutto così. Cazzo! Ragazzi, 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 ah, cazzo, mi hanno fatto, ah, guardati dove cazzo sono caduto, ragazzi, il mostro è andato, ah, Dio.